Dal 200 del 2013 sono ormai ridotti ad una sessantina i tabaccai che in città vendono i biglietti dei bus AIM perché dati i margini sempre più ridotti non conviene più. Razionalizzazione secondo AIM, una scelta dettata dai margini di guadagno sempre più ridotti invece per il presidente provinciale della FIT Davide Giuliari. Abbiamo concordato esclusivamente una razionalizzazione del sistema di approvvigionamento che consisteva in un ordine minimo di 750 euro mensili e l'approvvigionamento autonomo da parte di ciascun tabaccaio. La tabella degli agici è stata proposta e imposta unilateralmente da IEM Mobilità. Questa tabella degli agici prevedeva un agio di partenza dello 0,5% che sarebbe stato circa dell'1% annuale. Oltretutto questo contratto è un contratto semestrale e ribedibile a ogni sei mesi e ogni sei mesi sarebbe ripartito dallo 0,5%. Commercialmente è un'assurdità, tanto che noi prendevamo prima un agio medio del 3,3-3,2%. Stato di fatto che questa proposta commerciale ha la naturale scadenza di contratti, cosa è successo? Che i due terzi della rivendita hanno deciso autonomamente di non aderire al nuovo contratto. Tenga presente che per noi è sempre stato comunque un servizio vendere biglietti, perché il nostro compenso è sempre stato piuttosto basso, ma ridurlo di 10 volte o di 7 volte è comunque commercialmente una proposta assurda. Quelli che attualmente stanno vendendo biglietti, che hanno ancora contratti in essere, probabilmente non so se prossimamente aderiranno ancora al contratto. Alla fine chi ci rimette è il cliente che non trova più biglietti.